E' lì lì, quel bastardo si prende gioco di me. E' lì, quel bastardo si prende. E' lì, quel bastardo si prende. E' lì, quel bastardo si prende. Questa è perfetta. E' naturale, l'ho fatta io, dopo tutto. La morte conservata da un nitrato d'argento, come una mosca nell'altra. Meraviglioso. Meraviglioso. Un'altra. Ma perché? Meraviglioso. 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 Deve essere l'emettitore. Autorizzazione richiesta. Connettere un terminale autorizzato. Terminale. Deve essere il comunicatore. Sequenza di riadio avviata. E' da così tanto tempo che mi cerchi. Perciò, eccomi qui. Aspetta. Non è me che stai cercando, vero? No. E' la bambina. Dovrei essere offeso. Ma come potrei? Tu non sei l'unico che vuole il suo potere. C'è qualcun altro. Qualcuno che lo merita di più. Che può offrire ricompense oltre la tua immaginazione. Spiacente. Ma la sua offerta è più allettante. Paura. Riesco a sentirla. Una meraviglia. Ma ancora incompiuta. Io sono Stefano. E tu ora sei la mia arte. Figlio di bottana! Ecco la mia stupenda. Quella cosa interrompe l'attivazione dell'emettitore. Finizionale. Devo trattenerlo fino all'attivazione dell'emettitore. 80 secondi alla via più del sistema. 70 secondi alla via più del sistema. 60 secondi alla via più del sistema. Perchè. 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 Oh 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 Yeah Ah Ah